La sezione civile della Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato il Ministero della Salute a versare un risarcimento da un milione di euro agli eredi di una donna nissena deceduta a causa di una cirrosi epatica, contratta a seguito di una trasfusione di sangue infetto. Una vicenda che affonda le sue radici nel tempo, visto che la trasfusione venne eseguita nel 1972. Poi l'insorgere dell'epatite C sfoggiata in una cirrosi epatica, anni di sofferenze, fino al decesso della donna nel 2009, all'età di 64 anni. I figli della sfortunata 64enne hanno quindi chiesto che venisse accertata la responsabilità del Ministero della Salute e il loro legale, l'avvocato Ivano Costa, aveva presentato ricorso. Le perizie effettuate nel corso del giudizio civile avevano accertato il collegamento tra la trasfusione e l'insorgere della malattia, ma in primo grado il risarcimento non era stato concesso, in quanto nel 1972 non vi era ancora una conoscenza scientifica della possibile veicolazione del virus dell'epatite C, isolato solo nel 1978 attraverso il sangue infetto, e che dunque il Ministero non aveva violato alcun obbligo di vigilanza. L'avvocato Costa aveva però presentato appello e stavolta i giudici di secondo grado hanno stabilito nella loro sentenza che in ogni caso il Ministero della Salute ha comunque l'obbligo di vigilare attentamente sulla preparazione e sull'utilizzazione del sangue degli emoderivati, per prevenire e impedire la trasmissione di malattie. Non è il primo caso del genere che viene analizzato dai giudici nisseni, in passato infatti sono stati concessi altri risarcimento per trasfusioni di sangue infetto, in molti casi risalenti agli anni 60 e 70, quando i controlli erano meno accurati e le sacche contenenti sangue infetto rischiavano di girare con maggiore facilità.